Nel giorno dedicato a San Francesco, patrono d'Italia, Torino ha ospitato la Festa dell'Albero, iniziativa promossa oramai da diversi anni dall'Associazione Produttori del Verde Moreno Vannucci. La giornata che rientra nel calendario della quattordicesima edizione del Meeting Vannucci si è tenuta nel campus dell'Ateneo Universitario Luigi Inaudi, alla presenza del magnifico rettore Gian Maria Aiani, dell'ex ministro e professore presso l'Università Piemontese Elsa Fornero e di altre autorità tra cui l'arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia. Il dono, portato dalla delegazione pistoiese guidata dal segretario generale dell'Associazione Moreno Vannucci, Renzo Benesperi ed Antonio Ceccarelli del distretto rurale vivaistico ornamentale di Pistoia, sono stati 10 alberi di platano. Le piante, di circa 10 anni, alte oltre 11 metri, sono state messe a dimora nei giardini della Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche, luogo dove migliaia di studenti vivono la loro esperienza universitaria. La giornata non è la prima celebrata fuori dai confini pistoiesi. In passato la festa dell'albero si è tenuta a peschici con il dono di numerose piante dopo un incendio che devastò una grande pineta a Roma e recentemente nel 2011 a Milano. Mi piace anche sottolineare questa amicizia che oggi è stata creata o consolidata attraverso questa cerimonia degli alberi. Oggi la giornata è una giornata molto triste per l'episodio tragico di Lampedusa ma abbiamo pensato che piantare degli alberi non vuol dire necessariamente fare una festa ma vuol dire lasciare un segno di speranza e la speranza, la fiducia nel futuro è ciò che gli alberi forse più di ogni altra cosa rappresentano. Quindi lavorare con gli alberi, veder crescere gli alberi e vedere in questa crescita una speranza per il futuro credo che sia il migliore auspicio che noi possiamo oggi formulare perché tragedie come quella che è accaduta ieri non avvengano più. Ci sembrava quindi anche un omaggio, un omaggio importante a tutte le vittime che ieri hanno perso la vita in questa tremenda tragedia del Mediterraneo.